Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. Sulla FIPILI personale su strada per lavori tra San Miniato Basso ed Empoli Ovest in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze riduzione di carreggiata per lavori tra Bargino e San Casciano Sud in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia chiuso lo svincolo di Follonica Nord in direzione Roma. Sulla statale 3 Bistiberina riduzione di carreggiata per fondo stradale dissestato tra Val Savignone e Canili e tra Madonnuccio a Poggiolino e San Sepolcro Nord. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!